Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. A quello che riguarda la legge di bilancio già presentata al Parlamento e che speriamo possa essere approvata dal Parlamento tra breve, dentro questa legge ci sono molti nostri interventi, tra gli altri posso citare l'aumento delle pensioni minime per gli anziani a 600 euro, così potremo nel corso degli anni di questa legislatura arrivare ai 1000 euro al mese che ci siamo proposti da tempo. C'è un'altra cosa molto interessante che riguarda le assunzioni dei giovani dai 18 ai 34 anni da parte delle aziende, il cui costo per le aziende non sarà più di oltre il doppio, come avviene ora, ma sarà uguale allo stipendio del nuovo assunto. Lavoreremo nei prossimi mesi con degli incontri settimanali o quindicinali al fine di poter portare al governo di cui noi siamo la parte con maggiore esperienza politica le migliori proposte per cambiare in meglio la vita degli italiani.